Un saluto dal Tg della mobilità, domani per interventi tecnici necessari in vista dell'apertura della stazione di Acilia Sud, la tratta Vitini a Colombo della ferrovia Metromare sarà chiusa al servizio passeggeri sino alle 18, saranno attivi bus sostitutivi in partenza da Tordivalle e da Cristoforo Colombo. La tratta Porta San Paolo-Tordivalle non subirà invece modifiche. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.